Quante direzione Umbria 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 Passo della futa con raduno Ferrari, qualche Ferrari Allora dopo pausa pranzo in questo ristorantino qui Ora proseguiamo il giro Ecco i due ragazzi Quante direzione Quante direzione Umbria 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 il lago è morto schierate siamo pronti a ripartire l'hotel gioveggiato come si vede i musicisti moto a ripartire 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 semplicemente spettacolare La lay and put your weary soul to rest Yeah, I will try to do my best To keep you safe inside this nest And keep your crap I'd like to say this gets more clear When it's more cloudy every day But summer's gonna come And burn the stormy clouds And all the doubt away Sleep, little girl Cause when you wake It's gonna be a different world So close your eyes And say goodbye to spring It's true This spring is coming to an end You're not that fragile anymore I know what's there behind that door And it's just waiting in the wings to pull you in I know you think you're safe in here Inside these insulated walls But I can't hold this house together Not forever, yeah Soon it's gonna fall Sleep, little girl Because when you wake It's gonna be a different world Everything will change Everything will change Everything will change Potenza ridotta Quasi spenta Un giovane turista Eccolo Così sono ancora spente Tra poco partono Stanno aprendo Un po' con la volta Apri, chiudi, apri, chiudi Apri, chiudi C'è la cascata Leggermente bagnata Sembra l'inverno Qua Le cascate La parte finale Quindi la parte destra Poi c'è la parte sinistra E la parte alta Di prima Scende E arriva Alla spada E là C'è un altro punto panoramico Basilica C'è un altro punto panoramico 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 Lavori di ristrutturazione della torre. 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 Dopo l'ultima notte all'hotel Catignano a Gubbio. Piscina. Si parte. Siamo pronti a partire. Tornare a casa. Lavori di ristrutturazione della torre. 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 Ben scopri... Passo da Moragliare Motto Passo da Moragliare Siamo scesi a valle prendendo l'autostrada e con circa 4 ore siamo arrivati a casa e quindi questo tour dell'Umbria iniziato il 30 maggio si è concluso il 2 giugno con oltre mille chilometri di strade bellissime poste altrettanto meravigliose